E buongiorno dalla Puglia Forte Club qua a Scalea, oggi siamo con Adriano! Ciao, ciao a tutti! Adriano ragazzi, vincitore addirittura del Fanta Calcio del 2022 organizzato dalla Puglia Sì sì sì, è tutto vero ragazzi, non c'è nessun trucco, nessun inganno, è tutto vero Io ho partecipato, non ci credevo, poi insomma sono riuscito a rimontare un po' di posizioni Insomma alla fine, già due o tre giornate dalla fine ho capito che ce l'avevo fatta E quindi poi mi hanno fatto vincere una settimana gratis scegliendo quello che volevo Insomma la settimana che volevo, il posto dove volevo Ecco, perché hai scelto questo villaggio e questa settimana? Diciamo che l'anno scorso io ero stato a Rudi, volevo cambiare Scalea era una località che mi interessava molto, avevo anche visto su Facebook i vostri post Insomma mi mettevano molta allegria e quindi ho deciso di scegliervi E sono felicissimo perché in questi tre giorni mi sto trovando benissimo, tutta la famiglia Dall'animazione alla struttura accogliente, il cibo ottimo, spettacolare e quindi insomma lo consiglio vivamente Cioè ragazzi, non devo neanche più chiedere niente Hai fatto tutto tu? Massimo, vuoi dire qualche segreto per vincere il fantacalcio quest'anno? Consiglio sempre il mercato, mi raccomando sfruttate le plusvalenze Quindi ragazzi, attenzione ai consigli del nostro Adriano Sì, sì, sì E allora, facciamo un saluto Un bacio, in particolare saluto i miei amici Giacomo e Michele che mi hanno aiutato in alcune scelte Ah, ecco, però la vacanza se l'ha presa una Eh sì, va bene, è solo la mia famiglia Ciao Va bene, un grande